L'ho citato colleghi deputati, collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine, tornate al vostro posto e deputate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni. Tornate al vostro posto e deputate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni, la salita e la sospesa. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima? Sì, è anche più bello che sospenderla prima.